Musica 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 Allora l'ultimo è premiato Ducci si infunde la nostra poetessa ambasciatrice poetessa Anzula Maria Di Bene ambasciatrice della Magna Grecia che ha fatto quest'anno insieme a Floralucco per il lavoro non scattabile che stanno facendo per la cultura, per l'arte internazionale in tutto il mondo da facendo di Santa Grazia Infatti ho qui un giornale molto importante del Disperi che ha legato il mattino di Napoli uno parla dell'impegno che ho preso raccontando la storia d'amore tra l'uso che adesso non c'è il quadro e quindi è anche questo il gioco d'amore Sermoneta è un prodotto in inglese Cos'è il tuo? Allora che dobbiamo mettere vicino anche ad ora una cosa molto importante che vi dico a tutti alla chiesa di San Miguel di Milena Petrarca su Sofia Loren Sposo fino al 17 giugno è un'altra piccola cappellina c'è un omaggio alla Ciociara fatto da me bellissimo un'immagine dell'immagine dell'immagine della mamma dicevo è una mostra importante è stata fatta già la prima edizione a fondi adesso è a Sermoneta presso la chiesa di San Michele d'Arcangelo vi invito ad andarla a vedere poi prossimamente sarà anche a Roma e in altri posti quindi vediamo dove può essere portata insomma una foto con lei se no lei è premiata no 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 se no questa non è mia dobbiamo ormai premiata comunque io sono devo dire solo due parole che sono orgogliosa di questo premio perché grazie a questo premio sono bellezza di sette anni e conosco dei grandi artisti nel cinema il teatro oltre sono veramente emozionata riconosce tutti gli artisti di Lino Sfera altri che poi ne vengono Walter ah sì anche Walter Polly che sta aspettando per una sua trattoria da Elena se volete venire andiamo a Sermoneta a che ora andate adesso usciamo dalla Sermoneta subito andiamo proprio a Sermoneta nel cuore di Sermoneta dove c'è il film e se volete venire se volete venire e facciamo contatto anche a Flora io sono la gente e sono bella santa di di fare a Sermoneta e abbiamo creato questa associazione invitata rumace perché con la situazione e e quindi va bene va bene sono qui prevese e non si è ignorante ho continuato ho preso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.